buona giornata a tutti e buon carnevale erano questi giorni in cui più che al carnevale quando ero piccolo io che non si faceva niente di queste cose qua si pensava invece alla primavera che avanzava e mio babbo era il tempo in cui preparava la potatura delle viti era un momento importante l'abitazione dove sono io è il limite estremo delle viti nella montagna nostra perché oltre quell'altezza non venivano più e era un rito la potatura innanzitutto bisognava andare a cercare i salici questi erano i strupei che servivano per legare la vite per legare i tralci eccetera così e si andavano a cercare quelli adatti perché dovevano avere una certa consistenza e per la parte grossa della vita dovevano essere grossettini robusti invece per legare l'altra parte di cui parlerò poi dopo dovevano essere molto più sottili mentre la parte grossa del salice che serviva per fare questi legacci chiamiamoli così e era comodissima perché serviva per fare le ceste per portare a casa il fieno noi lo chiamavamo in maniera particolare in dialetto al corg ebbene la piuttatura delle viti perché era molto importante molto più in basso si faceva prima ma noi non potevamo farlo questa prima perché il problema del freddo il problema del gelo se si fosse fatto prima e mio padre mi prendeva con sé perché io gli dovevo tenere i piccoli salici che servivano per legare la vite e ripassarglieli e era un'avventura tagliarli e guardavo come faceva perché ci voleva un'arte nella vite bisognava tagliare il talazzo che dava meno frutto tagliava quello che era stato utilizzato l'anno prima e lasciava quello che era nuovo se così possiamo dire ecco più vigoroso ma anche il taglio era un'arte perché andava tagliato a certe altezze o certe lunghezze se così possiamo dire e quello che a me colpiva era questo che ad ogni taglio veniva fuori il liquido si chiama la linfa in italiano ma e legno fuori l'acqua agiva e mio padre diceva vedi piange perché ve l'ho tagliato ma io se io non lo piangessi se io non lo tagliassi e addio vino prossimo anno ecco quel taglio dava frutto non per niente Gesù prende poi questo esempio per parlare della vite dei tralci io sono la vite voi siete il tralci il padre mio pota perché porta molto più frutto questa volta così visto in chi siamo nel clima che ci porta alla quaresima ho voluto ricordare questo piccolo aspetto e allora buon cammino a tutti anche verso la quaresima